Siamo con la coce dell'Ambri Luca Cereda, che sapore ha questa vittoria conquistata proprio nel finale ai rigori? Molto dolce, credo che la meritavamo, meritavamo sicuramente di vincere più punti del Lugano e sono estremamente felice per i ragazzi perché al di là di quello che si raccontava anche nelle ultime cinque partite a parte Bien, meritavano di più, quindi sono felice per loro stasera. Quanto è importante per il futuro di questo campionato perché poteva prendere veramente una brutta piega questa fase della stagione? Noi rimaniamo realisti, sappiamo qual è la nostra forza, quali sono i nostri difetti, cosa sono i nostri obiettivi e quindi sappiamo che dobbiamo lottare ogni giorno, adesso ci godiamo veramente questa vittoria di stasera dove sono veramente molto felice per i ragazzi e da domani poi ricominciamo a lavorare. Anche perché il prossimo avversario sarà il Berna e che stasera sarà vinto con la Ginevra, lì che tipo di partita dovrete giocare? Ma la stessa di stasera, solidi difensivamente senza lasciare troppo e cercando di mettere pressione davanti come cerchiamo di fare ogni partita. Tornando infine sul derby, una partita rocambolesca, strana, avete cambiato il portiere, Conza ha fatto una super prestazione ma insomma sono emerse tante qualità, anche tante buone notizie credo per il futuro dell'Ambri. Assolutamente, credo che al di là dei primi 7-8 minuti dove eravamo comprensibilmente un po' contratti poi siamo usciti bene, abbiamo giocato in modo costante e sono veramente contento per i ragazzi. E finalmente avete vinto con Lugano? Sì sì, ma se giocavamo come abbiamo giocato le ultime partite, l'ultima Lugano un po' meno costante ma già l'anno scorso era solo questione di tempo. Congratulazioni. Grazie mille.